Ti giri e cerchi di parlare, da quale sogno vuoi tornare, da quale angolo lontano, ombre a rincontro... Allora, ecco i tre protagonisti maschili del film. Ognuno di voi dica qualcosa di positivo o negativo sul suo personaggio. Difficile, eh? Sì. Personaggi positivi, prima. Personaggio positivo. Negativo, parte negativa è che è un warrior, però a fin di bene, diciamo. La parte positiva è che sono molto sincero e schietto in quello che faccio, la parte negativa del mio personaggio è la pizza che mangiamo in macchina che era terrificante, era una gomma terrificante. Adesso il negativo? Il negativo è un ragazzino non cresciuto, però allo stesso tempo con questa sorta di innocenza che un po' lo salva, un pochino. Il negativo si diverte, però... E l'incontro subito dopo la separazione? Eh, quello si commenta la se. No? Cioè, come resistere? Eh, praticamente. Succede, via. Tu ne sai qualcosa. Io no, io no, io no. Adesso devi compensare. Adesso devi compensare. Eh? Sì. Ecco. No, io sono un personaggio positivo. Lui sta in mezzo, è quello che c'è all'aspetto positivo e negativo, lui è tutto negativo. Ci siamo disposti così apposta. Va bene. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Ti giri e cerchi di parlare, da quale sogno vuoi tornare, da quale angolo lontano? Ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te. Pazienza Che strani giorni, amore.